Mario, il cane e prodigio di San Barbato, frazione di Mano Calzati, che è rimasto al fianco del padrone Quirino, anche nel suo ultimo viaggio è diventato ormai una star sulla storia che ha commosso tutta Italia. C'è sui riflettori anche la redazione di Italia Si, il format della RAI condotto da Marco Liorni. Pochi giorni fa il servizio è andato in onda su Telenostra e Prima TV, era stato condiviso e rilanciato dal segretario della Lega, il senatore Matteo Salvini, sulla pagina Facebook di Telenostra più di un milione e mezzo di visualizzazioni, migliaia di like e commenti. Tutti a stringersi attorno al cagnolino diventato famoso per il suo grande atto d'amore. Dopo il dolore per la morte del padrone Mario, come vediamo da queste immagini si è ripreso, nei suoi occhi però ancora tanta malinconia, l'amarezza per aver perso un amico come Quirino, al cui il cagnolino era particolarmente affezionato, visto che seguiva il padrone dappertutto, quando il contadino andava a curare l'orto e si recava a dare da mangiare le galine, oppure in estate quando riposava con lui al fresco dell'ulivo. Attorniato e ben voluto dai familiari di Quirino, Mario, ha ripreso comunque a scodin solare nel cortile, le coccole certo non gli mancano. Quella di Mario è una lezione, una storia da incorniciare, in questo periodo di distanze e restrizioni ci riempie l'anima e il cuore, la grande umanità da parte di un angelo a quattro zampe.